Quanti di voi conoscono le petizioni online, quelle change.org, quelle dove, tipo io una volta ho firmato una petizione dove c'era scritto anche a Mahatma Gandhi piace questa petizione, giusto, la film, liberiamo questo canale, se pure Gandhi ha detto che andava liberato perché le petizioni sono fatte a cazzo, tu su internet puoi firmare petizioni e puoi proporre petizioni anche senza dichiarare il tuo nome ed è bellissimo, change.org è la soluzione che ha trovato alla sinistra per non scendere in piazza perché non so se ci avete fatto mai caso, però di solito change.org è un sito dove l'attività principale è la domenica la domenica mattina, perché è il momento in cui tu vai in bagno, ti metti lì, ti siedi e decidi di salvare il mondo e dici che faccio, salvo il cane, salvo il malindi, salvo il tigli d'acqua, ti pulisci il culo, che hai fatto là tutto sto tempo in bagno, guarda non puoi capire, c'è il delirio, nel pianeta c'è il delirio, perché è così? La gente pensa di poter cambiare il mondo con le petizioni, ci sono in Italia, in Italia su change.org, in Italia ci sono attive 200 milioni di petizioni, attive. Siamo nella merda, ma così mi pare esagerato, no? 200 milioni anche perché ci sono le petizioni che sono fatte da chiunque, le può fare chiunque, no? Quindi possono scrivere veramente quello che vogliono, cioè è non scrivere quello che vogliono, cioè la mia petizione preferita è no ai conigli in gabbio. Che bella come idea, no? Solo che poi nel testo non ti dicono dove cazzo rimettiamo i conigli se togliamo le gabbie, perché se poi tu mi lasci i conigli in gabbio, i conigli c'hanno il problema che scopano come i conigli e quindi poi ti ritroveresti a fare le petizioni non schiacciate i conigli per strada, sarebbe il delirio. Quindi questi c'hanno 40 mila firme su noi, politica, c'ho una petizione, quelle settoriali, no? Quelle geograficamente distinte, dicono, salviamo il lupo del Piemonte. Che tu dici? C'è il lupo della Val d'Aosta, mi dici, ma io che cazzo vi ho fatto? Cioè, neanche lo sapevo che c'era un confine, perché sono sceso a destra invece che a sinistra a mangiare. Cioè, se voi come una lupa, tra l'altro, quindi mi dovreste anche capire. No, loro, no, ci fai schifo. Noi salviamo con gli del Piemonte e tu della Val d'Aosta devi morire. Ed è così. Cioè, le cose sono, c'è una ragazza che ha fatto una petizione in cui dice a voi una crema nivea che faccia bene alla mia pelle. E non ti dice che pelle ha. Cioè, ha preso un po' più di 35.000 film di persone che hanno filmato su questa cosa, che secondo me l'hanno proprio vista. L'hanno vista e hanno detto, no, no, ti serve una crema nivea, proprio lo faccio, sei ridotto uno schifo. Perché altrimenti non c'è nessuna spiegazione. Io l'ho filmata perché nella mia speranza c'era l'idea che la nivea l'ascoltasse, andasse a casa sua, facesse un laboratorio, le facesse la confezione a vita. Di cose, lei dice, guarda qua, c'è tutta la confezione per tutta la tua vita, ma per favore non fare più petizioni perché non ne capisci un cazzo. Però è così, la petizione più firmata del 2016, che poi tra l'altro è stata la più firmata anche nel 2017 perché ha raggiunto quote assurde, è no alla morte di David Bowie. Ma che cazzo? Che David Bowie è morto solo perché in Inghilterra c'era sia alla morte di David Bowie. Perché altrimenti, voi lo sapete come sono gli inglesi sui referendum, sulle votazioni, quelli lo prendevano da là e gli facevano fare un weekend for molto, ma cioè la democrazia per loro è fondamentale, cioè noi diamo troppo peso alle cose che fanno gli altri. Per esempio, secondo me, ogni tanto, quando le persone sparano cazzate, dovremmo smettere di dirgli che è una cazzata. Dovremmo dirgli, fanno, poi lo fanno, è una cazzata. Ma ci vai e gli dici, hai visto che è una cazzata che è molto più divertente, è molto più bella. Cioè, secondo me, noi, nel sud, faccio anche questo pezzo, lo faccio per un motivo specifico, noi nel sud abbiamo sbagliato una cosa qualche mese fa, abbiamo perso un'occasione enorme, enorme. Qualche mese fa, ad ottobre, c'è stato il referendum in Lombardia sull'indipendenza, sulla possibilità di andare e diventare indipendenti della Patania, no? Noi abbiamo fatto una cazzata. Noi la sta cosa la dovevamo tutti sostenere, tutti, tutti. Noi dovevamo votarsi, vota, noi dovevamo fare la lega sud per l'indipendenza della Patania. Mi trovavo con la sua affera di balla. E' proprio bellissimo, sarebbe stato bellissimo che loro facevano sta cosa. Diventavano indipendenti. Lui ci ritiravano, poi diventavano ovviamente un paese, cioè, nessuno se li caccava più. E dicevano, ah, vogliamo entrare in Europa? Eh, guarda, noi poniamo il Beto perché siamo un paese fondatore. Ah, ma invece per l'ONU noi poniamo il Beto perché siamo un paese fondatore, perché purtroppo... Cioè noi lì dovevamo ridurre, tipo la Corea del Morde, no? Cioè, Sony è con un capo coglione. E' proprio perfetto, era quella l'idea. In modo che poi loro arrivavano e dicivano, guardate, abbiamo fatto una cazzata per favore, potete riaccoglierci? E noi gli avremmo detto sì, vi accogliamo. Ma per ricordarvi del vostro errore, da oggi in poi, invece che Patania, vi chiamate Sukania. Così anche fra cento anni. Papi, ma perché Sukania? Perché abbia fatto una cazzata? Quanto sarebbe stato tutto più figo, no?